A partire da domani tutte le regioni italiane torneranno in zona rossa per tre giorni. L'ennesimo lockdown volta a limitare spostamenti e assembramenti durante le festività pasquali. Per questo il Viminale durante il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza ha chiesto ai prefetti di intensificare i controlli. In particolare le forze dell'ordine dovranno presidiare le aree urbane più esposte a rischio di assembramenti, come parchi, litorali, arterie stradali e autostradali. Le località di mare saranno quelle più attenzionate, visto che sono numerose le seconde case presenti. Una condizione su cui i sindaci costieri chiedono il rispetto massimo delle regole. Dobbiamo prestare molta attenzione, sicuramente ci sarà tanta gente che verrà sui comuni della costa terramana e dobbiamo evitare quello che è accaduto per esempio nello scorso fine settimana, dove erano presenti tantissimi assembramenti, soprattutto nei punti nevralgici della città. Noi vigileremo affinché questo non accada, comprendiamo però l'insofferenza e la voglia di stare all'aria aperta di tanti cittadini. Quello che vi chiediamo è di rispettare il distanziamento sociale. Ci sono diversi spazi all'aperto, soprattutto in spiaggia. Cerchiamo di non creare degli assembramenti e magari di far vivere qualche ora di aria aperta anche ai nostri figli. L'invito della Prefettura è quello di fare maggiori controlli proprio sul territorio? Sì, la Prefettura ci ha dato quelle indicazioni. Comprendete bene che però noi abbiamo un corpo di vigili urbani che darà il suo contributo, ma il lavoro maggiore arriverà appunto dalle forze di polizia presenti in città. Quindi bisogna prestare la massima attenzione. Noi, lungi da me, fare il carabiniere, lo sceriffo, come sono stato più volte etichettato, ma dobbiamo far rispettare le regole e quindi anche noi daremo il nostro contributo con la Polizia Municipale. L'obiettivo ovviamente è quello di far sì che superata la fase di Pasqua non ci sia un aumento dei contagi. Ma se continuiamo con questo trend di vaccinazione, noi da qui a un mese, un mese e mezzo, siamo in una situazione di comfort, quindi dobbiamo assolutamente prestare attenzione. Sono gli ultimi sforzi che chiediamo a cittadinanza e ci auguriamo appunto che da qua a un paio di mesi si riesca veramente a vedere la fine di questo incubo e inizi a tornare un po' la luce in città.